Cosa vuole? Ah niente, guardavo l'infinitino. Scusi. Insomma, non devo dire qual è questa sorpresa. Se ha la bontà di aspettare cinque secondi. Meno cinque, quattro, tre, due, uno... Formidabile, caro Bianchi, lei è proprio bravo, le devo dire proprio bravo. Lo ripeteremo ogni anno, tutti i giorni di festa. E il nostro grattacielo sarà un punto di attrazione per tutta la città, veramente. Ecco lei. Cin cin. Evviva, complimenti vivissimi. Era un anno che pensavo di far esplodere questo grattacielo. Magari l'avesse fatto, pensi che è sicurato per il doppio del suo valore, pensi un po'? Ah sì? Ma sì! Sì!